partner Rai e questa sera, ricordiamola ancora una volta, tutto organizzato da Rai Cultura e siamo in diretta sulla piattaforma di Rai Play. Iniziamo la serata con la premiazione dell'ottava edizione del premio Strega Giovani. Tutti gli autori concorrono per l'ottavo premio Strega Giovani, tranne una sola persona, Giulio Mozzi, perché il libro è ritenuto adatto solo per un pubblico adulto.